non sia mai non sia mai buonasera amici benvenuti come sempre i ritardatari del giovedì mukbang no sapete che dovevamo cambiare il format ma visto che calano le visualizzazioni per tutti in agosto abbiamo deciso di mantenerla allora chiacchierando un pochettino ma chi c'è qua ma chi c'è ma chi c'è qua buonasera buonasera questa sera non si mangia ma piuma il caffè si disquisisce a corte lo so che non è da bon ton ma si disquisisce a corte 18 mila gradi fahrenheit visto che dobbiamo stare otto minuti insieme bevendo questo caffè maestro moretto che sarà presente oggi domani e dopo domani nel video di cosa ci parli stasera avevi detto che era una cacchierata così fra amici no è il compleanno dai auguri auguri è il compleanno di john deacon john deacon 70 anni anche lui è 70 anni e il nostro caro e amato bassista dei queen che quest'anno contenti che l'abbiano ripreso in foto mentre andavo a comprare il giornale così almeno abbiamo potuto fare un paragone anche noi ho visto su dei tabloid la foto purtroppo gli anni passano per tutti meno male che la musica ci regala qualcosa di eccellente 70 anni 70 candeline in pazzesco guarda se devo dirti più che il secondo di bohemia rhapsody come hai detto tu nella recensione anzi nei quattro chiacchiere della scorsa settimana ormai è tutto un è tutto nostro ogni giorno c'è un nostro video ormai se ci fosse un suo ritorno io sarei proprio non sarebbe male e non solo io raggiungerei l'estasi l'estasi e no l'estasi e signori quindi tanti auguri al nostro bassista del cuore dei queen sarebbe bello ma i loro amici sicuramente sì hanno fatto qualcosa gli altri queen gli hanno fatto gli auguri sì certo sulle pagine ufficiali non perdono un attimo per ricordare per esempio se ricorre l'anniversario di qualche sua canzone lo ricordano sulle pagine social oggi su facebook e su instagram c'era una sua bellissima foto nel camerino durante un preconcerto che accordava al basso e dicevano appunto buon compleanno buon settantesimo compleanno buon settantesimo chissà noi quando arriveremo a 70 anni come saremo tu mi metterai una foto di me con i cdj di oggi o il primo giradischi 70 anni ragazzi buono questo caffè vero l'ha fatto in casa gli anni per noi e niente nulla oggi andiamo così ce la spurghiamo così veloce perché la mucbine deve uscire entro mezzanotte però è un video veloce anche perché come sapete siete ancora tutti in vacanze quindi non vogliamo rompervi troppo gli zebedei quindi happy birthday john lagon dal maestro moretto e da alex meticelli ci vediamo domani nel quattro chiacchiere e anche nella recensione con mirko perché abbiamo due argomenti molto interessanti domani devo dire che sei studiata bene ragazzo che te lo dicono a fare ciao a tutti a domani ciao